Un bellissimo segno quello che oggi la famiglia Leo ha voluto regalare alla nostra comunità di bianchi, in particolar modo alla frazione di Palinudo, un arazzo raffigurante l'immagine della Beata Vergine del Carmelo, alla quale Peppino Leo era molto legato e ogni qualvolta veniva qui, entrava in chiesa e si rivolgeva alla Madre Celeste. Questo per noi è un grido di speranza per le nuove generazioni, soprattutto per i giovani di questa terra. Questo dono dice che è possibile anche qui vivere, anche qui mettere in gioco le proprie capacità, le proprie risorse e il proprio impegno ed è possibile con grandi sacrifici andare avanti e fare qualcosa di bello, creare qualcosa di innovativo anche in questa terra, spesso messa da parte, spesso considerata periferia. Periferia oggi ci viene ricordato non siamo, ma possiamo fare anche noi tanto quando le forze di tutti si mettono insieme. Ancora un grazie particolare alla famiglia Leo per questo dono. Ciao!